Tirare! Bel colpo, maestro. Quel tipo è incredibile. Io gli lancio contro tutto quello che ho e non c'è niente che... Cosa... sono... quelli? Ehm... non lo so, mi sono sembrati così eleganti. Io ho 24 ore per liberarmi di questo buffone. Ho l'intero piano che sto preparando da 18 anni. Se ne va in fumo... E tu indossi i suoi articoli firmati! Siete?